al Tullio Saleri di Lumezzano in scena la tredicesima giornata quella tra Lumezzane e Legnago Salus reduci da punti dopo un periodo buio entrambe le squadre Lumezzane che vuole tornare alla vittoria in casa dopo più di un mese il Legnago invece che non vince in trasferta dal tredici di ottobre qua il colpo di testa di Ilari il centrocampista che ha regalato il passaggio del turno in Coppa Italia e poi la risposta da parte di Daniele Rocco la migliore occasione del primo tempo per quanto riguarda il Legnago poi gara molto bloccata ci proiettiamo direttamente alla ripresa con lo stesso Ilari che conclude col Mancino palla spedita in corner e poi la conclusione dalla distanza da parte di Franzolini la palla direttamente fuori il Lumezzane prova con i cambi un po' a direzionare la partita poi un cambio diventa decisivo quello di Cali entrato in mediana e poi il rosso per Viero che interviene così proprio su Cali risponde al calcetto di Cali rosso che lascia in dieci il Legnago per 25 minuti fino al termine dopo un minuto risponde Pesce con un gran Mancino dalla distanza bravo nella risposta Fortin anche qua a bloccare il pallone al di qua della linea sull'inserimento di Colai nel finale ci prova anche con Pisano attaccante aggiunto qualche protesta per questo contatto in area Cali crolla ma non c'è nulla Togurdo da calcio piazzato sfiora l'incrocio dei pali ma non c'è più tempo un tempo a testa e un punto a testa per Lumezzane e Legnago Grazie mille. Grazie mille. Grazie.